La notte giovane signori miei, allora tanto vale parlare di calcio mercato, abbiamo anche tante cose da recuperare visto che poi ci sono state le Final Four, era finito da poche campionate e mi sono detto neschi ma lascia stare un po' in pace la tua community che li amorbi sempre, li infastidisci più che mai ma sono pronto a ritornare alla carica, quindi se volete questo genere di contenuto appunto che carichiamo verso la mezzanotte e mezza magari anche con, no? Proprio dando una costanza al tutto dopo aver visto Scalcio Mercato l'originale con l'espertissimo Di Marzio magari vi vada a riassumere a più riprese un po' la giornata appena trascorsa, tipo oggi, oggi di cose da dire ne abbiamo la conferenza di Garcia, le dichiarazioni importanti del presidente dell'Aurentis, appunto in chiave Napoli tante robe da aggiungere ma anche l'Inter in uscita, Dzeko, attenzione Brozovic, in entrata si è parlato di Bissec, la Juventus rinnovora BIO il prezzo di Sergei Milinkovic e Savic, attenzione alla Fiorentina, Zagnolo, ci sono tante tante robe e le trattiamo tutte andiamo a fare, no? Una miscela esplosiva, ovviamente, citiamo sempre la fonte, io mi affido sempre al buon caro, ormai giovane ma neanche tanto di Marzio, e... perché ho usato tutti... scusate ragazzi, risettiamo, risettiamo tutto e... e discutiamo, discutiamo indiscutibilmente prima di partire vi invito a lasciare un like se il tutto vi aggrada, vi piace, quindi un feedback positivo che non costa una mazza iscrivetevi perché anche quello stranamente è del tutto gratuito e quindi magari vi tenete aggiornati anche tramite il mio canale perché facciamo un po' soprattutto cronaca, informazione, poi dico anche qualche cappellata tutta mia che ci può stare a condire, no? Il tutto, e... però, se non avete voglia di star assorbirvi i video in ineschio ma comunque gli aggiornamenti sul carciomercato vi interessano, c'è sempre OneFootball e anche sta roba qua, anche questa è gratuita, cioè, non si paga una mazza, strano, in un mondo dove tutto, no? bisogna sborsare, io non vi faccio pagare nulla, vado, sono proprio buono Sommagnanimo, link in descrizione o QR code per rimanere appunto aggiornati tramite OneFootball che, appunto, è personalizzabile, quindi se volete notifiche solo sulla vostra squadra del cuore o un campionato in particolare, l'app è veramente... no? Fa proprio a caso vostro, si modella, quindi link in descrizione o QR code Detto questo, partiamo, e da dove partiamo? Partirei, appunto, dal Napoli Mi è piaciuta l'empatia già che è palpabile, palese, quasi viscerale tra Garzia e De Laurentiis Ovvio, poi, in realtà, all'inizio di un rapporto è sempre così, io ricordo anche, no? Addirittura, no, mi scena un po', che sto dire, James Bond, no? La foto tra Ancelotti e De Laurentiis, poi, diciamo, non finì proprio... Insomma, quindi, bisognerà vedere, senza ombre di dubbio Garzia mi sembra un allenatore capace di plasmarsi, in qualche modo di essere molto più malleabile sotto l'aspetto caratteriale, a differenza di Spalletti E ha alzato tanto la barra, la barra come l'ha chiamata, l'Asticea l'ha chiamata la barra Garzia Il presidente ha alzato tanto la barra perché ha parlato addirittura di provare ad arrivare in finale di Champions League Poi, io mi accontenterei, ha detto, di arrivare in finale Poi, magari, se la vinci bene, ma arriviamoci Dici niente ad arrivarci Però, giustamente, l'obiettivo è quello di ripetersi e, perché no, andare ancora, scalare ancora ulteriormente qualche record in Champions L'anno scorso si è arrivata ai quarti già tantissima roba perché non fare un passo avanti in questo senso e, d'altro canto, è condivisa l'ambizione da parte di Garzia che dice, qua, io voglio vincere il trofeo e sono chiamato per questo e vediamo Quindi, non si nascondono non si nasconde non si nasconde nessuno e, vi dico una roba valutando quello che sarà il carciomercato ecco, quasi vado come posso dire faccio anche un torto a questo contenuto dicendo, ragazzi, parleremo di tutto e di più ma, alla fine è inutile negarlo i botti di Capodanno ormai sono un po' più a risparmere si tende a risparmere non ci saranno come una volta e quindi, in un mercato del genere dove, semmai, i Siluri risparano in Arabia Saudita i Siluri sempre dal punto di vista sportivo diciamo, perché poi magari qua crolla tutto avere una squadra come quella del Napoli se non rivoluzionata perché il Napoli non può l'anno prossimo veramente puntare a ripetersi è molto passa dalle uscite e dalle entrate è una miscela che l'anno scorso ha funzionato quest'anno, in uscita come già sappiamo Kim Min-J ormai è praticamente del Bayern Monaco visto che pagherà la clausola 60 milioni ecco, come ha monetizzato mamma mia il Napoli un affare stupendo per il Napoli è vero bisogna tenerli ma parliamo del Napoli che ha preso questo gli ha fatto venire uno scudetto grazie anche veramente alla sua leadership difensiva dopo un anno quanto ci guadagna? l'anno aveva pagato oltre 20 milioni se non sbaglio 20-25 se non sbaglio non voglio di cavolate comunque monetizza alla grandissima e diciamo veramente veramente tanta tanta roba quello che quello imprescindibile secondo me è Osimani davanti il Presidente ha detto se non esce se non arrivano offerte rinunciabili secondo me per offerte rinunciabili si parla di 150 milioni mettiamo anche 100 difficile trovare adesso un club che prende 150 milioni e te li e te li mette sul piatto io ascoltavo ascolto anche anche per imparare un po' l'inglese ascolto spesso romano ogni giorno mi ascolto sempre di romano è tipo il Manchester United che è una di quelle che ha speso tanto oggi non li può spendere se non li può spendere lo United quei soldi là per Osimani ci sono veramente poche squadre ecco tralasciando ovviamente ripeto ancora una volta le squadre saudite perché poi poi ci arriviamo e quindi cosa succederà cosa dice Gianluca Di Marzio l'agente di Osimani incontrerà De Laurentiis nei prossimi giorni e si parlerà del possibile rinnovo da parte del presidente azzurro c'è la volontà di prolungare la scadenza del contratto da parte dell'attaccante c'è l'apertura a dialogare ma va ovviamente trovata all'intesa sulle cifre che ancora non c'è se il nigeriano dovesse invece partire il preferito di Garcia sarebbe Jonathan David del Lille tra l'altro del eh sì Lille e cosa dovevo cosa dovevo dire sto ragazzo qua tra l'altro 24 gol in Nican il terzo nella classifica cannoniere sotto a Mbappé e all'H7 bel giocatorino bel giocatorino anche qua sono parlato di un benamento però si vedrà se rimane Ossiman e se viene sostituito bene Kim Min-J io penso che il Napoli l'anno scorso quasi anzi perché quasi parte in pole position ecco io lo vorrei quasi quasi dire perché io sono uno di quelli che dice no attenzione perché adesso non preso spalletti perdono Kim il Napoli vedrete se è giocato già tutte le cortucce io non la penso così ragazzi non la penso proprio comunque in difesa per chiudere il discorso Napoli l'abbiamo veramente trattato ampiamente se dovesse partire Kim c'è Kevin Denso ragazzi Kevin Denso del Lens non lo conosco caso mai poi ne parliamo in maniera più approfondita inutile aggiungere altra altra carne a fuoco andiamo adesso rapidi sulla Fiorentina perché il nome questa è bella la Fiorentina ha messo nel mirino Nicolo Zaniolo ripeto tutte queste notizie le sto recependo da Gianluca Di Marzio io non sono una mazza di mercato non capisco nulla non ho fonti non ho niente sono un nullatenente voglio precisarlo perché poi no no ma che dì no no io le leggo lì e vi riporto semplicemente quindi facciamo un po' di cronaca di calcio mercato e dico la mia sull'affare ho presunto tale la Viola ha chiesto informazione del Gattaro Serai per il classe 99 la situazione attualmente è stallo ma la chiamata della società toscana c'è stata quindi l'interesse praticamente c'è l'interesse della Fiorentina per Zaniolo io vi dico una roba lo vedrei benissimo la Fiorentina se c'è forse un club dove davvero Zaniolo potrebbe rilanciarsi che con rilanciarsi perché utilizzo questo verbo rilanciare perché di Zaniolo io ne parlavo come un vero non è che ne parlavo avevo una concezione no di un vero e proprio crack per me nella mia testa nel calcio italiano recente io crack vedevo e vedo chiesa e poi uno quello che poteva esplodere era Zaniolo e poi quindi se io ho queste aspettative poi lo cioè lo vedi andare con tutto il rispetto si Galatasera società prestigiosa ma se ne deve andare in Turchia così colà io lo vedrei bene alla Fiorentina mi piacerebbe avrebbe il mio benestare lo so non verrei fatta una mazza del mio benestare ma l'avrebbe totalmente Fenerbace adesso andiamo in chiave in casa Inter Fenerbace porta avanti la trattativa per Gekon nella serata di oggi ci sarà un incontro tra la gente dell'attaccante Lucci e il presidente del club turco l'intenzione è quella di trovare un'intesa per chiudere l'operazione il prima possibile pare che stiano trovando l'intesa io ho ascoltato o recepito anche qualcosina da Sportmediaset dove lì invece si parla praticamente di accordo raggiunto se volete vi do anche qualche dettaglio pare che manchi solo l'ufficialità praticamente per Gekon al Fenerbace firmerà un biennale da 15 milioni si dice quindi vedremo stiamo parlando del 37enne attaccante dell'Inter ha fatto ha fatto bene secondo me in maglia nerazzura a me Gekon e ho detto no se leviamo l'anagrafica i picchi alti di Gekon l'inizio stagione per esempio di Gekon in questa annata veramente veramente tanta roba ha un giocatore che a me è piaciuto tantissimo purtroppo ovviamente ha una ha una certe età ma uno come Gekon va sostituito cioè va sostituito perché si è una non grave ma è una perdita per l'attacco dell'Inter Gekon Gekon non è Correa cioè è Gekon non è neanche il Lukaku che abbiamo avuto solo un mese cioè il Gekon che è stato nella prima stagione nella prima parte di stagione questa top veramente veramente top top quindi un giocatore non puoi dico sempre nella prima fase ma non solo nella prima fase perché mi ricordo anche i gol nell'Euroderby mi ricordo un giocatore che ha fatto gol pesante un giocatore importante quindi questo è un giocatore che nel momento in cui tu lo perdi e ci sta a 37 anni in questo momento devi stare a centellina a tutto quindi ci può stare assolutamente sveccare però stiamo parlando un giocatore fortissimo per quanto mi riguarda quindi se perdi Gekon attenzione all'entrata attenzione all'entrata mi raccomando ecco andiamo avanti ah si parla di Lucca per l'Udinese 8 milioni di euro più bonus Lucca che prima era nel giro dei grandi club d'Italia Lucca Lucca vi ricordate sto Lucca se ne parlava un gran bene adesso pare che potrebbe andare all'Udinese vogliamo un po' lo monitoreremo sempre per andare sull'Inter che poi qui facciamo partire anche un po' Inter e parliamo anche della Juventus Sergei Milinkovic Savic che pare che appunto interessi all'Inter alla Juventus Di Marzio dice che la Lazio chiede 40 milioni di euro per ora non sono arrivate offerte ricordiamolo Milinkovic Savic è un classe 95 ma si parla di 40 milioni la richiesta sono cifre rispetto a qualche anno fa accessibili per Milinkovic Savic non credo per l'Inter perché quando si parla di sborsare 40-30 milioni anche per Frattesi visto che c'è anche Frattesi che interessa Roma Inter Juventus l'Inter addirittura avrebbe un principio d'accordo col giocatore ma deve prima far uscire un giocatore quando si parla di queste cifre e la vedo un po' dura per noi però 40 milioni se paragonate i 100 milioni di qualche anno fa che erano la richiesta di Lotito sono una cifra sicuramente accessibile e attenzione perché il parere personale potrebbe essere potrebbe essere il rinforzo dell'Iventus per come per come la vedo io molto più di altre addirittura si era parlato forse dello stesso Milan no vedremo vedremo soprattutto 40 milioni adesso ma potrebbe anche scendere un pochettino no siamo a inizio calciomercato vedremo comunque la vedo una cifra accessibile per quanto per quanto mi riguarda può essere l'anno in cui la Lazio si priverà di Milinkovic di Milinkovic e Savic vedremo vedremo e appunto andando sulla Juventus questa è la settimana sempre ribadiamo dice Di Marzo in cui Di Marzio no Di Marzo quale Di Marzo si aspetta una risposta da Rabiot dopo aver presentato la proposta per il rinnovo annuale per il riparto offensivo le prossime ore potrebbero essere decisive per il ritorno di Milink mentre sull'esterno si può chiudere per Timothy Castagna quindi in casa Juve c'è una sorta di principio d'accordo per Castagna sentivo proprio Di Marzo all'originale diceva la Juve se lo può chiudere credo che forse abbia altri nomi in canna sulla corsia di destra per sostituire il quadrato che ricordiamo è andato e quindi forse potrebbe uscire un nome che oggi non conosciamo fatto sta che volendo Castagna la Juventus lo può chiudere se non sbaglio si parla di 15 di 15 milioni si attende soprattutto questo rinnovo di Rabiot per capire se cioè se rimane Rabiot è una cosa se non rimane ovviamente credo che lì veramente l'eventus debba fiondare in qualsiasi si fionderà o su Frattesi o su Milinkovic o perché no su entrambi ecco si vedrà si vedrà francamente e lì davanti Milik Milik si parlava dei 7 milioni se non se non vado errato no per riscattarlo per 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 il ritorno sostanzialmente e Milik Milik è un giocatore che a me piace tantissimo Milik poi sapete lì davanti hanno sofferto praticamente tutti è un dato di fatto però Milik se lo provi a prendere a cifre veramente così accessibili Milik lo prenderei se lo riprendesse la Juventus io per il dopogeco io lo andrei a prendere uno come Milik che sa giocare a pallone ti sa lavorare la palla è bravo anche in aria io lo andrei a prendere quindi non credo ci sia questa possibilità perché come dicevo domani sostanzialmente dovrebbe essere la giornata decisiva Mizzica questi video vanno lunghissimi chiedo scusa ragazzi però dobbiamo parlare di tutte le squadre facciamo e va bene e allora chiudiamo con altre piccola chicca per Gabbiadini che sarebbe il primo nome sulla lista di di Ragneri no l'allenatore Ragneri lo conoscete assolutamente mi amo il grandissimo Claudio Sir Claudio che ritorna in Serie A e ha chiesto Gabbiadini e poi Bellanova al Torino praticamente vicino si parla di 7 milioni di euro più bonus per per il Cagliari perché ovviamente l'Inter non lo ha riscattato e quindi il Torino lo va a prendere dal Cagliari 7 milioni più bonus Bellanova secondo me può andare tranquillamente al Toro e può fare lì quell'upgrade che all'Inter francamente non c'è stato nonostante si è giocato cioè Bellanova si è giocato una finale di Champions voglio dirla sta roba qua non è da Inter non è da pick della Serie A però magari con una destinazione intermedia come può essere il Torino e quando vai a giocare con Juric cambia la musica perché anche Dalber no chi era Dalbert no no Dalbert Lazaro cioè vi ricordate Lazaro che non sa veramente un disastro con Juric aveva fatto aveva fatto bene poi se non sbaglio c'è stato infortunio una roba del genere un casino ma ottimo ottimo lì e chiudiamo con Brozovic chiudiamo con Brozovic e l'Al Nasser la squadra saudita ha presentato all'Inter un'offerta di 15 milioni di euro per Brozovic se il giocatore dovesse accettare si potrebbe sbloccare l'arrivo appunto di frattesi incredibile sappiamo che queste squadre saudite stanno facendo il devasto innanzitutto partiamo da questa hanno preso Benzema che più ne ha più ne metta hanno volevano portare Lukaku Koulibaly che è molto tentato no prendono cioè l'Inter voleva prendere Koulibaly in prestito ma quelli arriva e gli danno 30 milioni non c'è possibilità di lottare con questi qua io non lo so cosa succederà da qui a 10 anni se in maniera così incessante e pressante questi sauditi investono sui giocatori del calcio europeo non lo so francamente neanche se è una mossa vincente per arricchire il loro calcio non lo so non so nulla di tutto ciò senza ombra di dubbio si droga un po' il calcio mercato perché qua può succedere in uscita può veramente succedere di tutto Brozovic io vi dico la verità Brozovic sarà che soppreso dalla melinconia non me ne priverei non me ne priverei è vero che se dici no ma se va via Brozovic ti entra frattesi se la matematica mi dicesse questo io su quel ragionamento di svecchiare la rosa io ci io ci devo approvarlo in tutti i modi possibili però Brozovic cioè privi di Brozovic non ce l'hai cioè tu dici anche ci metti Cialanoglo ma Cialanoglo ha altre caratteristiche cioè Brozovic per caratteristiche è unico nel suo nel suo ruolo è unico almeno nell'Inter non abbiamo non abbiamo mai avuto un vice Brozovic puoi adattare un altro giocatore magari il rendimento non cambia ma non hai un altro Brozovic e l'abbiamo vista anche in finale di Champions onestamente Cialo quello che vi impara Brozovic dettava legge e ha dettato legge anche col City giocatore incredibile ho visto l'altro giorno con la nazionale giocatore che ancora io per due tre anni anche io non me ne priverei onestamente di Marcello Brozovic poi per 15 milioni ho capito e ha una certa io Brozovic onestamente no il mio il mio no francamente o no certo che fra te se lo vorrei ma non deve essere Brozovic secondo me la come posso dire il prezzo da pagare ecco per quanto per quanto mi riguarda ragazzi siamo andati oltre i 20 minuti mezzanotte e mezza che ancora sto registrando devo caricare il video quindi mezzanotte e quattro scusate questi video se volete ve li butto lì di notte altrimenti se oppure ve lo butto di mattina alle 7 io non lo so stasera ve lo butto alle 7 stasera ve lo butto dentro adesso magari da domani me lo metto alle 7 vedremo dai o no non lo so ancora che voglio ragazzi sto facendo questo video se qualche pazzo è arrivato no no ve lo arrivo adesso vabbè fuori di testa completamente un grande abbraccio paneschi grazie a tutti 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 grazie a tutti